Cos'era? Cos'era? Vento tutto, signori. Allora, io spero che di qua si torna indietro, perché qua c'era... Qua cosa c'era? Non mi ricordo più. Ah, mi manca un asci, giusto? Andiamo. Non posso. Andiamo. Tutte le scuse sono buone per ritardare il momento di incontrare qualcosa. Non posso? Oh, eravamo pieni di zeppi prima, pieni di zeppi... Ma poi soprattutto... Ma no, fammi montare almeno questo, cioè l'ho preso. Ok. 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 che artista della valigetta che artista della valigetta signori c'è niente altro andiamo qua non c'ho mica voglia vi dirò che non c'ho mica voglia di far sta roba ah che sono mio dio ma devi morire mi ricordavo di te vi qua ok ma è sempre più schifo questo posto c'è niente qua no si rompe nulla ma ma tu com'è possibile questa cosa hello stranger si va bene è lo stranger vediamo un attimino ti sembra poter eccoci lo metto verde che secondo me richiama molto bello molto bello ora c'era anche un'altra cosa è solo questo welcome got a selection of good things on sale stranger I'll buy stranger I'll pay a pretty penny for that you'll get some bang for your buck I guarantee it ma porca miseria siamo a 42 prima era a 30.000 porca miseria andate a volare che senso aspetta sono confusa però play ah chi le ho allora dobbiamo sempre prendere che è che mi ho fregato c'è 42.000 managgia 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 Perché devo rupare un inizio che ha tutto un costo qui? Viva bene. Dai, facciamo questa. Ancora non ce la facciamo completare. Abbiamo completato quello che abbiamo. Ci siamo. Una curiosità. Mi fai sparare. Eccolo. 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 Eccolo.